Mi chiamo Teresa Mendoza, sono messicana. Sono nata povera, non è certo un male. Ma datemi retta, sono stata povera e adesso sono ricca. Ricca è meglio, ve l'assicuro. Oggi mando avanti il più grande impero della droga dell'emisfero occidentale. Si potrebbe dire che sono una prova vivente che il sogno americano gode di ottima salute. Sono diventata brava in quello che faccio, non approverete il modo in cui sono arrivata qui, ma chi se ne prega? E non giudicate, grazie a me avete sempre un po' d'erba per le vostre stupide feste del fine settimana o un grammo per i vostri merdosi addi ammobilato. Va bene così. Il trucco è rimanere in vita abbastanza a lungo per goderti i frutti del tuo lavoro. In questo ambiente la data di scadenza è sempre molto vicina. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato.